Migranti. Renzi. Il governo Meloni deve capire che la campagna elettorale è finita. Da Ascolta la notizia. Il governo Meloni deve capire che la campagna elettorale è finita. Stare per una settimana sui media a dire, la pacchia è finita. Non possono scendere tutti, lasciando a bordo delle navi alcune decine di migranti con i fari delle tv puntati addosso mentre tutti i giorni migliaia di migranti entrano in Italia da altre parti era una pura speculazione mediatica. Alla fine, ovviamente, sono scesi tutti. Così Matteo Renzi nella sua E-News. Lo show inutile e crudele è finito, le trasmissioni possono occuparsi di altro, i migranti vengono fatti scendere dice Renzi a mio giudizio questo è populismo, non politica. Mi piacerebbe una riflessione vera sull'immigrazione, ha scritto ancora il leader di Italia Viva. Mi piacerebbe una discussione su come la cultura salvi l'identità di un popolo dall'anonimato. A proposito. Bellissima la scoperta di San Casciano dei Bagni, e di come ci sia bisogno di una riflessione sulla crisi demografica e sugli effetti del climate change, Sharm el Sheikh segnerà una svolta reale. Sui flussi migratori. Su questi temi io sono pronto a discutere con chiunque. Se il tema invece è lasciare qualche decina di disperati su una nave per consentire al governo di fare spot elettorali quando la campagna elettorale è finita da un messo e mi sembra profondamente ingiusto dice Renzi io sono per la sicurezza e per la legalità. Non per la demagogia e la crudeltà, si legge ancora nella E-News di Renzi.